Uno spettacolo bellissimo con una sapiente regia, con bravissimi attori, con uno scenario splendido. Credo che sia stata una rappresentazione eccezionale Valenza che ha permesso di ripercorrere il martirio della nostra Santa Patrona ma di ripercorrere anche alcune pagine della nostra storia e quindi credo che il bilancio sia estremamente positivo e siamo davvero felici che la nostra città e anche tantissimi giovani studenti potranno apprezzare la bellezza di quest'opera. Si è emozionato? Mi sono emozionato da quando ho vissuto la mia prima festa di Sant'Agata da sindaco della mia città, ho vissuto emozioni uniche. Oggi credo che si sia registrato un passaggio ulteriore lungo un percorso che mi avvicina sempre di più alla Santa Patrona della nostra città. Vi è un vincolo indissolubile che lega i catanesi a Sant'Agata e anche attraverso quest'opera si permette di avvicinarsi ancora di più a Sant'Agata e sono felice di questo.